Musica Sempre domenica 1 dicembre, io sono qui adesso per intervistare un altro personaggio importante di questa manifestazione, si chiama? Renato, iudica da Belluno Ok, perfetto, hai detto direttamente tu che sei da Belluno, io volevo appunto presentare il fatto che a questa manifestazione che si sta svolgendo in Friuli è venuto addirittura un ragazzo che non è un ragazzo normale, perché è il presidente? Sono il presidente della scuderia bellunese Alfa Romeo di Belluno Ok, benissimo, perciò quindi un viaggio di un'oretta, un'oretta e mezza per venire fino a qui? Sì, un'oretta e mezza Ok, allora raccontaci un pochino, il tuo club, la tua scuderia, da quanti persone è composta? Allora è composta da sei consigli nel direttivo e poi abbiamo quattro soci onorari, di cui anche Marco Fazio e poi abbiamo anche giornalista dell'automobilistro d'epoca, Dario Mella Insomma avete un sacco di... Ok, molto bene, senti invece qui oggi siamo stati molto fortunati perché abbiamo avuto oltre a un po' di vento per una bellissima giornata soleggiata, ok? Come stanno andando? Vi state divertendo? Come vi state trovando qui? Molto bene, un'ottima organizzazione, tutto bello, per fortuna il tempo è buono, per fortuna non abbiamo neanche trovato neve Ah, perché vi aspettavate neve? Neve lunese era prevista Ok, benissimo, senti, vuoi dire ancora qualcosina? Vuoi, non so, magari lanciare un messaggio? Anzi, io mi soffermerei ancora due secondi sul perché sei qua, perché mi stavi appunto dicendo prima che voi avete una gran, gran passione per... Esatto, per il marchio storico dell'ubicione Alfa Romeo, noi siamo qua proprio perché ci piace anche come club, in rappresentata del club ci piace proprio scambiare le idee con altri club, ampliare le conoscenze e anche scambiarci anche i pareri e anche i favori, uno viene qua e poi l'altro viene... Ha il vostro raduno Esatto Perché voi fate anche un raduno? Noi facciamo adesso, il 14 di dicembre, facciamo la cena nostra a quiz, quindi chi volesse partecipare entro il 5 di dicembre, basta che va a visitare il nostro sito e può vedere tutte le informazioni Va bene, perfetto, ok, allora io ti ringrazio, grazie mille Grazie a voi Salutiamo Belluno Giustava? Sì, Belluno Saluto tutta Belluno in effetti Grazie, grazie mille, a tra poco Grazie mille, 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 gra